Cosa lo aggiustate o succede un bordello? No, no, parliamoci gatto. Perché se con le bolle non sento la faccio di passare. Voi siete entrati ora, ma 11 mesi non possono passare. Eccola dunque in tutta la sua drammaticità l'esasperazione dei residenti di Contrada Foggia che nel primo pomeriggio di oggi Fabio Termine ha voluto incontrare per un sopralluogo nella zona. Residenti che hanno rivissuto lo stesso incubo dell'11 novembre di un anno fa quando proprio l'esondazione del torrente San Marco, tornato a straripare stamattina, aveva letteralmente devastato l'area. Cittadini arrabbiati, quelle che hanno incontrato Fabio Termine a cui hanno evidenziato la propria delusione perché nessun intervento di messa in sicurezza o solo di semplice pulizia è stato fatto proprio su quel corso d'acqua. Come dire che quella di oggi è stata la cronaca di uno straripamento annunciato. Fino a pochi mesi fa lo stesso ponticello sul torrente era stato interdetto al traffico. Non certo un divieto rispettato degli automobilisti in transito, intendiamoci. Ponte poi riaperto dopo essere stato assicurato da alcuni manufatti in cemento ai lati e determinarne delle sponde che però probabilmente stamattina hanno agevolato l'ennesima esondazione. Stando a quanto si apprende dal 2017 che sul torrente San Marco non viene effettuato alcun intervento, sul torrente Foci di Mezzo invece che evidentemente non a caso ha resistito, dicembre 2021 il Genio Civile aveva fatto un intervento di rifacimento della sponda sinistra. La situazione idrogeologica e cambiamenti climatici dunque stanno facendo la loro parte sicuramente, ma dalla Foggia i cittadini sostengono anche che se non si interviene su un corso d'acqua così delicato allora è impossibile poter pensare di risolvere i problemi in maniera definitiva. L'acqua non sale, quindi qua va fatto lo stesso discorso. Ma quando, Fabio, che giorno succede una cosa del genere, qua non possiamo vivere. E proprio su richiesta dei residenti della Foggia sono stati diverti nel pomeriggio da una ruspa incaricata dal comune alcuni dei muretti che delimitano la spiaggia perché questi avrebbero impedito lo stesso regolare fluire dell'acqua. Grazie.